Valar Morghulis qui e dalla cittadella e oggi parliamo di casa Baelish, una casata che pur non essendo antica, ricca o potente, è diventata una delle nove grandi casate di Westeros grazie alla forbizia e l'ingegno di Dito Corto. Ed eccola lì, per quanto miserabile possa essere. La mia casa ancestrale. Non ha nome, temo. La dimora di un grande lord dovrebbe avere un nome, non credi? Grande Inverno, Nido dell'Aquila, Delta delle Acque, quelli sono castelli. Adesso sono lord di Arenal. Quello suona bene. Ma prima che cos'ero? Lord di merda di pecora e signore di Forte Triste. E manca quel certo non so che. Casa Baelish delle Dita è una piccola e povera casata della valle di Arryn, che governa su un territorio roccioso di pochi acri. Quindi i suoi sudditi sono solo gli abitanti di un piccolo villaggio delle Dita, che comprende una dozzina di famiglie. La sede della casata è una vecchia torre di pietra senza nome, che si trova sulla più piccola penisola delle Dita. L'origine di Casa Baelish risale al bisnonno di Dito Corto, un mercenario di Braavos che arrivò nella valle di Arryn per combattere al servizio di Casa Corbrei. Poi suo figlio, divenuto un cavaliere errante, sceglie la testa del titano di Braavos su sfondo verde chiaro, come sigillo per la casata. Dopodiché il padre di Dito Corto diventa il primo vero lord di Casa Baelish, e nonostante la casata fosse una delle più piccole, povere e recenti, egli riesce a garantire un futuro migliore per suo figlio, mandandolo a Delta delle Acque, dove cresce con i figli di Lord Oster Tully. Ed è proprio Peter Baelish che grazie alla sua astuzia ed abilità fonda un ramo cadetto di Casa Baelish, quando la corona gli concede Arrynall e il titolo di Lord Protettore del Tridente, come ricompensa per i suoi servizi. Nasce quindi Casa Baelish di Arrynall, il cui stemma, scelto da Dito Corto, è un campo di usignoli argentati su sfondo verde, e la cui sede è l'enorme castello di Arrynall nelle terre dei fiumi. Così, poche generazioni dopo la sua fondazione, Casa Baelish diventa, anche se solo nominalmente, una delle casate più potenti del continente. Se avete apprezzato la citazione narrata masestralmente da Ezio del canale Kaelum, vi consiglio di dare un'occhiata ai suoi lavori di doppiaggio e di iscrivervi al suo canale. Valardo Eris.